Sì, sì. Ma come è la battuta al genio della classica? Oggi o no? Libidine! Non guarda che ci hanno preso per il culo anche sulle ghiere. Doppia libidine! Ma scusate, secondo voi siamo pronti? No, no, no. Noi non sappiamo la strada. Ah! Io piaccio! Ecco, non solo bello, piaccio! Piaccio! We will, we will rock you! We will, we will rock you! You! We will rock you! Carniamo! Noi due si chiama Versus. E' un progetto che non è una collaborazione tra due artisti ma uno scontro. Ficcamo molto più sinceri e quindi abbiamo deciso che tra di noi non può sussistere una collaborazione ma uno scontro sì. In realtà non è vero. Sono tutte parole che mette così in evidenza. In realtà io sono magneto e lo utilizzo per non essere contrastato dai nemici. Quindi questo è il mio superpotere. Sì, se poi devi spostare la macchina lui... Non andare docile in quella buona notte. I vecchi brucino infervorati quando approssimo l'alba. Infuriati. Infuriati contro il morente regno. Non andare docile in quella buona notte. Il progetto si chiama proprio Barricades. Abbiamo trovato una relazione dove ci fosse sia un intervento installativo, un DJ set quindi musica, un VJ set e una performance ma quasi. Quindi l'interazione con più forme e l'intrattenimento. Quindi trovare la formula classica tradotta poi nella multidisciplina e nei vari metri. Alla prossima. e io pot damn pussy e io potuto Grazie a tutti! I miei pensieri vanno di nuovo ai capezzoli muretti, alle eiaculazioni notturne, ai sogni bagnati di Mary Jane Ficarotta, alle fantasie dell'immensa scopata al ritorno a casa. Sono proprio contento di essere vivo, tutto d'un pezzo, il prossimo al congelo. Certo vivo in un mondo di merda, questo sì, ma sono vivo. E non ho più paura.